E' un'area di rigore, Arena dentro l'area, col destro, palla fuori di nulla Attacca di Smilano, buono il tocco dentro, attenzione perché siamo dentro l'area Con il mancino e la palla in rete, un gol meraviglioso di Arena Consiglio, tocco dentro, posizione regolare, attenzione perché siamo dentro l'area Conclusione con il mancino e arriva il pareggio del Jus Milano Tiene conclusione verso la porta, Arena con il mancino, arriva subito il 2-1 di San Michele Ancora lui, Arena, è ancora Sganga, ha tanto campo, va in porta col destro Fuori non di molto, cross dentro, colpo in testa, siamo dentro l'area di rigore Appoggio dietro, poi destro e palla in rete Arriva il pareggio del Jus Milano con questa conclusione che è anche leggermente deviata Attenzione, Jus Milano in attacco, si propone dentro l'area e riceve andando il tiro col volo al destro Ancora Giacomo Giustiniani, ha un passo dal vantaggio Vediamo se va in porta, tocco dentro, c'è la deviazione e la palla va in rete Incredibile, sfortunatissima deviazione della propria porta Altra punizione, direttamente verso la porta Due tempi, la tiene lì, poi con l'inclusione ancora, Golino Mette il calcio d'angolo con qualche difficoltà Tanto qua tocco dentro, attenzione, in spaccata La mette dentro, per il gol del 4-2 di Jus Milano Metta Tanto conclusione, arriva anche il 5-2 Con questo gran tiro dalla distanza A farlo è il numero 3, qui e ti E finisce qui, finisce con il successo di Jus Milano per 5-2 Contro San Michele Allora, siamo qua in compagnia di Giacomo Giustiniani di Jus Milano Oggi è partita difficile sia per le condizioni meteorologiche Anche un primo tempo in cui comunque San Michele vi ha messo in difficoltà Poi vi siete sciolti e nel finale siete anche riusciti a dilagare Beh sì, all'inizio è stata una partita molto fisica Loro giocavano a ritmi molto alti Quindi noi non eravamo all'inizio riusciti a mettere in pratica Quello che ci aveva chiesto il misto Avevo giocare due tocchi e palla a terra Poi nel secondo tempo, come hai detto tu, siamo riusciti a scioglierci e a portarla a casa Adesso è un'altra vittoria Il clima comunque è favorevole Il gruppo c'è Come avete vissuto quest'inizio? Quest'inizio, devo dire, è entusiasmante Anche perché è il mio primo anno qua alla Jus Ho trovato un gruppo molto compatto E mi sono trovato subito a casa, devo dire Quindi grandissimo gruppo e continuiamo così Perfetto, complimenti e grazie Ciao 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 Ciao